Grazie a tutti. Grazie a tutti. No, i ringraziamenti non sono formali, sono davvero voluti, sentiti reali e realizzati. Sì, sia la scuola normale che ha voluto ricordare quest'anno la figura di Aldo Capitini, personaggio, persona che come sapete qui ha svolto un ruolo importante pur nella apparente modestia della sua figura di segretario della scuola. Nella fotografia che vedete qui è riconoscibilissimo in basso a destra Giovanni Gentile. All'epoca appunto direttore della scuola normale superiore, non so se sapete che abitava qui a 50 metri, via Corsica numero 10, attaccato all'attuale sede della nuova biblioteca della scuola normale superiore e poi lasciò la sua casa quando fu chiamato a Roma a insegnare filosofia teoretica e poi a svolgere quella ulteriore carriera politica che sappiamo a quale conclusione ebbe, lasciò sia la sua cattedra pisana di filosofia teoretica, sia la direzione della scuola normale superiore, sia addirittura della stessa casa in via Corsica numero 10, ad Armando Carlini, persona professore che ha vissuto fino in fondo a Pisa la sua carriera, è stato il maestro di tante persone, di tanti docenti dell'Università di Pisa, tra cui anche Vittorio Sainati che è stato il mio maestro, il mio professore. Capitini, ecco, in che modo è possibile ricordare, onorare la figura, la memoria, l'attività di Aldo Capitini? Al di là di quello che viene tuttora fatto, vale a dire la marcia per Ugià Sisi, che è una delle sue creazioni che continua a essere svolta annualmente, ad esempio. Ma in che modo possiamo farlo noi qui stasera in un contesto come questo, così importante, ma anche così legato alla sua attività, alla sua memoria? Io credo che lo possiamo fare riflettendo su un punto molto importante, un punto nodale della riflessione di Capitini, anche se uso questo termine un po' tra virgolette, adesso capirete bene perché. Il punto nodale che voglio affrontare con voi è quello fra l'esperienza religiosa e la pratica della non violenza. È il titolo che ho voluto proporre per questa mia chiacchierata. Ciò significa, quello che dobbiamo cercare di capire, in che modo il religamen religioso fra uomo e Dio, su cui Capitini riflette, proprio qui, proprio alla Scuola Normale Superiore, pubblicando gli elementi di un'esperienza religiosa dalla terza, apparsa in prima edizione nel 1937, questo religamen tra uomo e Dio si ricollega nella lettura, nell'interpretazione che ne dà Capitini, poi non solo ad un atteggiamento non violento, ma ad una intera pratica di vita, ad un intero modo di vivere e di agire in maniera consapevole nel mondo, e anche di fare determinate scelte e anche e soprattutto di fare determinate scelte politiche. Anticipo che alla fine di questa chiacchierata leggerò alcuni passi, e gentilmente verranno proiettati nel video, di un testo di Capitini pubblicato sul ponte, il primo gennaio 1960, intitolato La mia opposizione al fascismo. Io credo che la lettura di questo testo sarà poi il punto finale di una riflessione che vedremo sarà abbastanza teorica relativa al pensiero di questo pensatore, ma ci farà capire anche le ricadute pratiche, le ricadute concrete. Perché, ecco il motivo per cui usavo con un po' di titubanza la parola riflessione, la mettevo tra virgolette, perché in Capitini teoria e pratica sono due facce della stessa medaglia. Non si può considerare la teoria in maniera assolutamente astratta, assolutamente autoreferenziale, e questa è la sua opposizione proprio al Giovanni Gentile che abbiamo visto essere alla sua sinistra nella fotografia che viene riportata. Teorie pratiche sono legate, la teoria non può essere l'occasione di una chiusura in sé, deve verificarsi, cioè rendersi vera, trovare la propria attestazione, la propria testimonianza, altra parola capitiniana, nella pratica. Allora, religione, il primo tema, la prima parola del titolo che vi ho proposto. religione è molto più facile per cercare di capire che cosa vuol dire esperienza religiosa, questa espressione che si trova nel titolo degli elementi di un'esperienza religiosa, è molto più facile per definire il termine religione e dire anzitutto ciò che religione non è. religione non è qualche cosa di istituito, non è qualche cosa di istituibile, non è funzione o legittimazione di una qualche gerarchia, non comporta l'identificazione di una serie di presunti fatti storici a partire dal quali elaborare una serie di dogmi, non è il veicolo o l'occasione per affermare la propria appartenenza ad un ambito chiuso e ben definito, non è occasione o pretesto di una esclusione, quindi di una divisione, il contrario dell'unità. Ho sostanzialmente parafrasato le pagine 29 e 30 degli elementi di un'esperienza religiosa, cito dalla seconda edizione, la terza, dell'immediato secondo Europoguerra, quindi 1947. Però appunto non dimentichiamo che gli elementi sono stati elaborati proprio qui, proprio negli anni del fascismo e quindi già subito e immediatamente riflettere sulla religione, riflettere sull'esperienza religiosa, significa riflettere anche su un certo modello di politica, significa riflettere sul rapporto tra una istituzione, la Chiesa e la politica fascista dell'epoca, significa riflettere sul concordato, ad esempio. Non si comprenderebbero le cose che ho citato senza tenere presente appunto questo evento storico. Ecco, questo e ciò questi aspetti istituzione, legittimazione di una gerarchia, l'identificazione di una serie di fatti storici con la loro affidazione in dogmi, in un sistema di dogmi, l'idea di esclusione, l'inserimento di divisioni invece che il raggiungimento di una unità, tutto questo è ciò che Capitini ne è davvero consapevole, rischia di rendere tutte le religioni, tutte le religioni istituite, rischia di renderle qualche cosa che prima o poi va in crisi, qualche cosa che prima o poi risulta umano, troppo umano. Come Capitini stesso afferma, ciò che lui rifiuta è il senso romano, dice lui, della religione. E' chiaro qui il riferimento e la polemica nei confronti della Chiesa Cattolica, ad esempio un passo degli elementi molto espliciti in questo senso è pagina 88 che è seguente, pagine dedicate appunto alla Chiesa Romana, quindi c'è questo impero e istituzione religiosa. ma direi che a questo in Capitini in questa definizione di religione c'è in questo rifiuto di una certa idea di religione istituita c'è qualcosa di più, c'è qualcosa di più fondamentale rispetto alle polemiche nei confronti di un certo modello di istituzione religiosa. C'è il rifiuto di una etimologia del religioso. Voi sapete che soprattutto due sono le etimologie della parola religione che rimandano entrambe a religio al termine latino religio tutte e due entrambe molto note una tratta dal De Natura Deorum di Cicerone che fa che ricollega religio al releggere quindi al scegliere ripetere determinati atti in maniera pubblica quegli atti che servono appunto al culto degli dèi e dall'altra parte invece il secondo libro della Divina Istituzione di Latanzio fa riferimento ad un'altra etimologia quella che riconduce religio a religamen cioè al legame al collegamento dice Latanzio un religamen pietatis di pietas tra umano e divino tra essere umano l'individuo la persona e Dio appunto ecco molto molto schematizzando la prima etimologia rimanda come accennavo ad una concezione pubblica della religione ad un culto praticato pubblicamente quindi richiede il riferimento ad una istituzione richiede il riconoscimento di una appartenenza mentre l'altro significato di religione è quello che rimanda al religamen al legame tra umano e divino è certamente qualcosa di più intimo di più personale di più che si decide nella coscienza individuale ecco la scelta di Capitini quando parla di religione va certamente a questa seconda accezione e va e sviluppa semmai la polemica nei confronti della prima concezione ecco perché elementi di una esperienza religiosa perché solo nel secondo senso ha veramente significato pregnanza la l'idea di una di una esperienza tornerò poi più avanti cosa su questo termine esperienza su quello che essa vuol dire però ecco ultima riflessione appunto su ciò che religione non è e quindi sulla contrapposizione sulla opposizione ad una certa idea di religione istituita che ha anche una ricaduta pubblica se non politica è necessario dice Capitini lo afferma chiaramente distaccarsi da questa forma di religione istituita che afferma Capitini proprio in vari luoghi negli elementi anche nel testo che poi leggeremo che si sviluppa in parallelo anzi costituisce l'aspetto complementare dello sviluppo del fascismo una convergenza tra tra un certo tipo di istituzione pubblica religiosa e una serie di rituali se non proprio di riti propri di questa dittatura che cominciava negli anni trenta a suscitare l'opposizione la contrapposizione dice Capitini all'inizio degli elementi di un'esperienza religiosa a suscitare la opposizione la contrapposizione dei giovani migliori e questi giovani migliori non possiamo non pensare appunto ai molti che vivevano in questo palazzo che abitavano queste stanze che dormivano dietro il corridoio laggiù tra cui uno almeno tra cui uno senz'altro Claudio Baglietto conoscete immagino spero la storia di Claudio Baglietto di un paesino in provincia di Savona Varazze fece il liceo classico Gabriello Chiabrera di Savona che per inciso feci anch'io frequentai anch'io studiò e si perfezionò in filosofia qui alla normale sotto la guida di Armando Carlini fu allievo di Carlini anzi colse un'accusione importante perché Carlini partecipò nel 1929 alla conferenza di Davos quella conferenza che era dedicata specificamente ad una presentazione delle tendenze della filosofia europea e in una di queste sessioni avvenne il famoso dibattito fra Martin Heidegger e Ernst Cassirer sul percorso sulle prospettive dell'utilizzo del riferimento alla filosofia di Kant appunto nella filosofia del Novecento un dibattito che poi divenne il centro il cuore dell'interesse per cui si parla appunto del convegno di Davos appunto in questa chiave io però nell'archivio Carlini ho potuto trovare ho potuto attingere all'intero programma con gli abstract delle lezioni delle conferenze tenute appunto a Davos nel 1929 perché faccio questo riferimento perché quella fu l'occasione in cui Carlini che peraltro tenne una relazione sulla filosofia italiana e sull'idealismo nella versione italiana quindi su Gentile poi penso anche dall'abstract non ho trovato il testo sulle critiche che Carlini stesso stava maturando nei confronti dell'idealismo gentiliano e che poi emersero nel mito del realismo Carlini fu quella l'occasione in cui Carlini conobbe Heidegger e quando Heidegger nel 1936 fu invitato a Roma dall'istituto di studi germanico istituito appunto da Gentile a proporre una conferenza fu la famosa conferenza su Hölderlin und das Wesse des Tichtungs Hölderlin è l'essenza della poesia Carlini gli scrisse invitando la Pisa tanto che vai a Roma vuole andare a ritorno passa da Pisa e viene la scuola superiore a farci una lezione ho la lettera in cui appunto c'è l'invito e la lettera di Heidegger in cui all'ultimo minuto come fanno i grandi le grandi star della filosofia e non solo Heidegger da buca cioè si giustifica e rifiuta perché è importante questo riferimento 29 36 questo legame di Carlini con Heidegger perché Carlini poi tradusse insieme a Scaravelli anche Heidegger in italiano tradusse proprio il testo del 29 che cos'è la metafisica ma soprattutto Carlini nel 30 tenne il primo seminario universitario qui in normale dedicato a Senunzeit a essere tenuo e tra i suoi allievi c'era Baglietto e fu per questo che Baglietto dedicò la sua tesi di laurea appunto al pensiero di Martin Heidegger a essere tempo e fu per questo che Baglietto poi chiese di andare a Freiburg e ottenne nel 1932 una borsa di perfezionamento per andare a studiare con Heidegger che nel frattempo dal 28 era ritornato appunto a Freiburg solo che appunto Baglietto era nel contempo allievo di Carlini e di Capitini teoria e pratica la teoria non poteva essere distaccata anche da prese di posizione decise serie radicate profondamente nella vita ragione per cui appunto nel 1933 sarà il potere Hitler in Germania e Baglietto rinuncia alla borsa scappa si rifugia a Basilea dove morì distenti sostanzialmente nel 1940 sui tentativi di recuperare Baglietto affinché ritornasse in Italia o concludesse la sua borsa in Germania eccetera molto è stato scritto c'è una discreta letteratura anche perché fu Gentile sostanzialmente che dette l'endorsement finale per mandarlo in Germania che gli fece avere appunto questa borsa e il fatto che poi lui se ne andasse non fu una mossa che gli fece piacere Pellio Cantimori prima di convertirsi appunto al marxismo fu appunto uno degli emissari di Gentile che andò da Baglietto in Svizzera per cercare di convincerlo a rientrare questi giovani migliori questi giovani di cui parla appunto l'inizio degli elementi di un'esperienza religiosa che volevano non solo pensare ma trovare nello spirito nella filosofia nella riflessione elementi per criticare il presente per rifondare una prassi giusta buona e quindi è un modello politico più precisamente etico-politico quello che Capitini vuole ritrovare invece in ciò che la religione è abbiamo visto ciò che la religione non è invece c'è un modello c'è un direzione una guida un orientamento etico-politico che Capitini negli elementi già caratterizza come l'attività che la religione riesce a realizzare e questa attività è un'attività di apertura un'altra delle opere di Capitini che raccoglie tanti testi pubblicata poi tardi nel 64 tanti testi sull'argomento religioso appunto è religione aperta proprio del titolo questo riferimento all'apertura in relazione alla religione è indicato perché dice Capitini la religione interviene contro interviene in una società chiusa è una citazione da Capitini è totalizzante continua la citazione per aprire l'anima per favorire accordi e comprensione per aprire mediante l'amore tutti gli orizzonti e quindi invece che immiserire l'individuo demandando tutto ciò ad una struttura rigida esteriore la religione sollecita il compimento dell'individuo il perfezionamento quella ricerca del meglio come valore a cui bisogna tendere non è fonte di separazione ma è fonte di unione di unificazione vuole indirizzare la coscienza ad una decisione di carattere universale insomma citazione da pagina 111 degli elementi la religione attua l'unità tra tutti e tutto vissuta continuamente e quindi qui c'è l'elemento fichtiano di Capitini quel fichte non solo della missione del dotto ma anzitutto il fichte che vede nel costante trascendimento nel costante andare oltre se stesso la vera prova dell'esistenza di Dio ciò che peraltro gli costò anche l'accusa di ateismo proprio nel 1800 e l'allontanamento della università di Iena questo elemento fichtiano ci fa capire che per Capitini come lui dice espressamente alla trascendenza divina deve essere opposto la trascendenza divina deve essere sostituita da un costante trascendimento ciò che dobbiamo realizzare ciò a cui dobbiamo tendere è l'intima struttura divina della realtà e quindi Dio negli elementi di un'esperienza religiosa è colui che si sperimenta e si vive nell'intimo della coscienza cito nel valore intrinseco di ogni azione nel valore intrinseco di ogni azione Dio scende si particolarizza ci sorregge ci da tutto ma dalla parte dell'intimo non dalla parte dell'esterno e allora pur essendo noi esseri finiti e questo è un elemento che ricorre molto spesso qui e in cui vedrei davvero un segno un segnale dell'influenza heideggeriana passata attraverso Carlini cioè il fatto che la finitezza dell'essere umano dell'esserci del Dasein direbbe Heidegger si trova posta al centro è qualche cosa di insuperabile però questa finitezza in questa finitezza vi è Dio la finitezza è qualche cosa che vive in essa ciò che sopraggiunge a redimerla pagina 55 degli elementi e chi redime la nostra finitezza è quel Dio che ci dà la forma che ci consente di vivere cercando il bene nonostante il male e il dolore che sperimentiamo di conseguenza ecco vedete siamo sempre qui esperienza abbiamo chiarito cosa vuol dire religione che cosa non è stiamo cominciando a vedere che cos'è ma l'esperienza esperienza religiosa perché che cosa vuol dire qui esperienza abbiamo visto il riferimento all'intimo all'interno in cui c'è qualche cosa che redime ciò e che guida e che spinge verso un trascendimento costante dell'essere umano nella azione nella realizzazione di sé non ci può essere un pensiero che non si pone non si realizza nell'azione ma non in una azione alla gentile astratta metafisica trascendentale ma in un'azione concreta nell'azione dell'individuo nell'azione di chi si prende la propria responsabilità in ambito civile in ambito politico esperienza allora non è qualche cosa che riguarda semplicemente una intimità chiusa non è un erlebnis per usare questa parola tedesca che dice l'esperienza vissuta intima chiusa in se stessa sentimentale emozionale diremo oggi esperienza è sempre qualcosa di proiettato al di fuori dall'intimo verso altro verso la pratica è quella erfarung quella esperienza nel senso di un viaggio di un cammino di un percorso di un fare come dice la parola tedesca che ci fa sperimentare cito sempre Capitini una vita che è qualche cosa in più della mia finitezza è un modo di andare oltre a se stessi questo viaggio questa esperienza questo trascendimento è una vita che è qualche cosa di più della mia finitezza continuo a Capitini apprendomi a tutto e a tutti vivendo l'intima unità amore come sostegno della realtà e dell'avvenire questa unità monoteistica non la sto a descrivere non la sto semplicemente a teorizzare ma la vivo concretamente e conclude la teologia in atto scusate la teologia è teogonia in atto la teologia è teogonia in atto da vivere cioè la teologia è il farre Dio il farsi Dio di Dio in me e attraverso di me ma allora se le cose stanno così non ci stupiamo se c'è questo legame questa idea di religione che spinge al di fuori di sé ad una realizzazione ad un'attuazione ad un agire di un certo tipo ad un trascendimento della propria finitezza nella esperienza come cammino come viaggio come arfarung allora non ci stupiamo di trovare sempre negli elementi di un'esperienza religiosa a riferimento ad alcuni modi chiari alcuni modi chiave di realizzare questo trascendimento nella realtà nella politica sono proposte concrete potremmo chiamarle così di comportamento etico-politico la non menzogna la non uccisione la non violenza il vegetarianesimo la non collaborazione qui c'è l'elemento gandiano in Capitini come ben sappiamo come risulta evidente dove il non qui non uccisione non violenza non menzogna non collaborazione il non qui non è inteso in senso dialettico dialettizzabile come contrapposizione opposizione nel senso egueliano tesi antitesi che poi andiamo ad un livello ulteriore che ci fa no è semplicemente l'assenza l'astenersi da non l'opporsi attivamente ma il non come segno appunto della astensione della voluta assenza del raggiungimento di un vuoto di una mancanza di una carenza ecco allora e da qui allora capiamo anche nelle indicazioni di questi aspetti molto precisi in queste proposte concrete come Capitini ritenga di poter fare una saldatura un collegamento un legame tra religione e politica esperienza religiosa e non violenza di nuovo il mio titolo i termini della politica Capitiniana che qui mettiamo lì tra virgolette perché dobbiamo capire che cosa vuol dire sono quei termini che indicano anzitutto l'apertura di una possibilità di nuovo il termine apertura per l'essere umano di realizzare pienamente se stesso pratiche di relazione condizioni di relazione possibile l'esperienza della relazione è appunto ciò che la politica è in grado di realizzare Capitini usa una parola impegnativa per dire tutto questo e la parola impegnativa è amore quest'amore come viene inteso sappiamo che in filosofia amore Capitini ne è ben consapevole ha vari significati molto schematicamente indica l'eros platonico il desiderio di acquisizione di ciò che uno non possiede e che ritiene di poter ottenere rivolgendosi ad altro ritiene di poter ottenere dall'altro quindi riconoscimento di una mancanza e desiderio di acquisire dall'altro ciò che viene incontro e che completa questa mancanza l'idea appunto dell'eros platonico molto semplicemente ricostruita nell'altra parte però amore significa anche cito un'espressione di Basilio desiderio più di dare che di ricevere se desiderio deve essere e desiderio appunto di apertura di sé di donazione di sé all'altro in ogni caso nell'un caso e nell'altro l'amore risulta funzione di unificazione quello che gli antichi chiamavano copula mundi ed è in questo senso che Capitini intende l'espressione parla di amore come virgolette purificazione della finitezza come condizione per la realizzazione di una vera e propria unità è un po' un collante l'amore come qualità della relazione che costituisce ogni essere umano ed è un collante che estende questa capacità di relazione anche al di là della finitezza anzi proprio al di là della finitezza dell'essere umano ma al di là della finitezza intesa in tutte le sue caratterizzazioni e in tutti i suoi aspetti oltre la morte uno dei testi faccio un salto faccio una digressione ormai siamo ben al di là della dopoguerra uno dei testi più interessanti sorprendenti enigmatici di Capitini si intitola La compresenza dei vivi e dei morti La compresenza dei vivi e dei morti non è che si metteva a fare le sedute spiritiche Capitini ben inteso assolutamente ma la compresenza dei morti e dei viventi è l'idea invece semmai del fatto che siamo sempre tutti in relazione e che siamo collegati attraverso questa qualità della relazione dell'amore gli uni agli altri in un vincolo che ci impegna che ci impegna a mantenerlo che ci impegna a realizzarlo cito e questo è importante per la non violenza se io non uccido l'altro dice sono tornato agli elementi è segno che mi porti in un punto intimo di amore infinito per lui e così posso fare per tutti e allora io sento lui e tutti come qualcosa di più che esseri annientabili li sento tutti infinitamente presenti ecco la compresenza dei morti e dei viventi legata proprio alla mia scelta della non violenza a questa esperienza dell'unità attraverso l'amore estendendo a questo proposito a tutti gli esseri umani possibili e immaginabili questa idea sento che anche i morti sono presenti vicini a me oltretutto e che dentro la morte c'è questa unità di amore concludo ecco vedete a che scopo la virgolette politica di Capitini come si caratterizza che cosa ho fatto fin qui ho cercato di svolgere il mio tema esperienze religiose non violenza facendo vedere una serie di cose primo come come deve essere intesa la religione anzi meglio come non deve essere intesa secondo Capitini sulla base di quali esperienze polemiche che lui mette in campo come deve essere invece intesa nel quadro di una religione aperta ho cercato anche di far capire come l'esperienza gioca e quale tipo di esperienza gioca all'interno della relazione religiosa del religamen religioso e poi come nel quadro di un collegamento di una relazione fra teorie pratiche tra riflessione e azione davvero quello che viene scritto in un'opera come gli elementi dell'esperienza religiosa non ha senso se non diventa prassi costante non menzogna non violenza non uccisione vegetarianesimo eccetera in quale ottica in quale senso nel senso appunto di questa relazionalità di tutto con tutto di tutti con tutti e questo è l'elemento forse religioso più di fondo che Capitini introduce ciò che Capitini chiama amore ciò che Capitini chiama unità la domanda conclusiva dunque è a quale scopo questo trascendimento del finito giunge negli elementi di un'esperienza religiosa lo scopo è appunto il raggiungimento di una unità di uno sfondo unitario che è proprio appunto della dell'attività della teoria della prassi di Capitini nel momento in cui l'esistenza dell'essere umana cito si sente unita alle altre esistenze e gode di esse come un tutto bene in questo modo realizza l'unità testimonia l'unità rende vera l'unità e così questa esistenza finita è autenticamente religiosa perché mi sono soffermato sulle sugli elementi di un'esperienza religiosa perché se noi li leggiamo bene questi sono realmente il nucleo sono realmente quell'opera che contiene in nuce tutti i temi che poi Capitini svilupperà sia nella sua riflessione sia nella sua pratica e ce lo mostrano molto bene appunto la raccolta di opere scelte contenuta in questo volume di scritti filosofici e religiosi curati da Martini che raccoglie appunto la maggior parte dei testi teorici Capitiniani ma non voglio concludere su questo vedete ho cercato di svolgere il mio compito con una ricostruzione di questi elementi teorici e del collegamento teoria pratica riflessione e azione nel pensiero Capitiniano ho cercato anche di darvi una serie di indicazioni precise anche di contesto biografico che coinvolgono direttamente in prima persona proprio questo ambiente questo spazio nel quale in questo momento ci troviamo la scuola normale superiore però la mia non vuole essere semplicemente una presentazione archeologica un'indicazione puramente semplicemente storico filosofica del pensiero Capitiniano io credo che ci si debba tanto più per un pensatore come Capitini domandarci cosa ce ne facciamo oggi che cosa ci può dire oggi un autore di questo tipo attenzione un autore che come tanti autori rischia davvero di essere oggi dimenticato in buona parte lo è resiste ripeto la marcia Perugia-Assisi e alcuni si ricordano come da chi l'ha fondata e come è stata fondata anche le celebrazioni per l'anniversario vediamo che insomma non sono numerosissime in Italia eppure eppure credo che Capitini come tante altre persone apparentemente dimenticate filosofi e non nella storia del pensiero abbia oggi davvero molto molto da dire ecco vi regalo un piccolo pensiero forse davvero le persone che noi troviamo nei manuali le persone che noi ricordiamo sì certo sono le ricordiamo perché alla fine c'è il vaglio della storia ed effettivamente hanno detto delle cose che hanno inciso sul pensiero dell'umanità ma in tanti tanti altri casi ci sono persone ci sono uomini e donne che sono dimenticati semplicemente perché non sono più di moda una cosa che mi piacerebbe fare prima o poi è scrivere una storia appunto almeno dei filosofi e delle filosof dimenticate più o meno ingiustamente perché in molti casi davvero c'è un'ingiustizia profonda in questo la nostra mente non può ricordare tutto le nostre biblioteche anche quelle così enormi come quella della scuola non possono contenere i libri di tutti e quindi c'è tanta tanta gente che ha dato il suo contributo fondamentale che viene dimenticata cerchiamo di fare in modo che non accada questo con Capitini perché ed ecco l'ultima riflessione che voglio fare si ricollega a quel testo che già vi ho anticipato il testo la mia opposizione al fascismo abbiamo celebrato ieri la giornata della memoria al di là del significato profondo di questa celebrazione forse una cosa fondamentale ulteriormente ci dice questa celebrazione che è bene ricordare che è bene non dimenticare semplicemente per non rifare gli errori che sono stati fatti nel passato il passato ci dice una serie di cose ci dà una serie di situazioni che poi si ripropongono magari con caratteristiche diverse eccetera ma che si ripropongono imparare a riconoscere queste situazioni significa anche imparare a riconoscere come evitare che queste situazioni abbiano determinate conseguenze significa imparare anche a conoscere come fare i conti con queste situazioni mettendoci al seguito imparando da quanto altri ricordati o dimenticati ci possono insegnare ecco se ci fosse la possibilità appunto di leggere qualche pagina qualche frase di questo testo capitiniano e magari lo leggiamo assieme direttamente qui sul video Capitini parla di come è nata e di come è maturata la sua riflessione e il suo atteggiamento nei confronti del fascismo la prima cosa con cui ha dovuto fare i conti da ragazzino è stato il cosiddetto patriottismo scolastico che cos'è il patriottismo scolastico è quello che ci coglie proprio nel momento dai 10 ai 15 anni ecco vedete lì in cui cerchiamo un impiego esaltante delle nostre energie una tensione attiva appoggiata a miti ed eroi poi quando ci fu la guerra quando la letteratura vociana e l'avanguardia salì alla più estrena vigolosa e anche filologica classicità vista nei testi latini greci e biblici come valori originali quando portai la riflessione politica precoce ma intorbidata dall'attivismo nazionalistico ad apprezzare i diritti della libertà e l'apertura al socialismo insopprimibile per qualsiasi motivo bene poi subito dopo avvenne il dopoguerra e il dopoguerra 18-22 mi trovò del tutto estraneo al fascismo anche se il fascismo poteva sembrare agli occhi delle persone di quell'epoca qualche cosa di energico di impegnato a fare qualche cosa facciamo i fatti facciamo le cose concrete non stiamo a fare discorsi di impegnato a fare qualcosa e comprendo perciò le esitazioni e le cadute di tanti miei coetanei che hanno come me pressa poco gli anni del secolo se io fui preservato e salvato fu per opera di quell'evangelismo umanitario moralistico indipendente per cui non ero diventato né cattolico né fascista e preferì rinunciare alla politica attiva scegliendo un lavoro di studio di poesia di filosofia di ricerca religiosa andiamo alla pagina successiva questa è dunque la prima esperienza che ho vissuto in pieno ho potuto contrastare al fascismo fino al principio perché mi sono venuto liberando anche se non perfettamente dal patriottismo scolastico cioè da una sorta di idea di patria di nazione di nazionalismo di chiusura di una nazione nei confronti delle altre nazioni e poi passaggio numero due la contrarietà alla politica estera interna del fascismo come è maturata la seconda esperienza fondamentale di cui parla Capitini mentre il fascismo si svolgeva quasi insensibile com'era la soddisfazione patriottica si capisce che mi trovo contrario alla sua politica estera ed interna per l'estero io presso a poco ero un federalista sentite un po' e mi pareva che una unione dell'Italia della Francia e della Germania avrebbe costituito una forza viva e civile anche se l'Inghilterra fosse voluta rimanere per suo conto ma ci voleva uno spirito comune che invece il nazionalismo fece rovinare e poi lasciamo perdere la società delle nazioni e tutto il resto la terza esperienza andiamo in fondo ecco fu quella appunto della conciliazione del febbraio del 29 cioè il suo rapporto con la Chiesa Cattolica come istituzione per trovare però un altro aggancio all'esperienza religiosa Capitini dice non ero più cattolico dall'età di 13 anni ero tornato ad un sentimento religioso sulla fine della guerra guardando al fascismo però vedevo che l'avevano sostenuto in modo decisivo due forze la monarchia che aveva portato con sé più o meno l'esercito e la burocrazia l'alta cultura quella parte vittima del patriottismo scolastico ma c'era una terza forza la Chiesa di Roma se essa avesse voluta avrebbe fatto cadere dispiegando una ferma non collaborazione il fascismo in una settimana invece gli aveva dato aiuti continui e poi c'era stata appunto la conciliazione se non altro oggi la situazione da questo versante è molto diversa e infatti la religione passaggio successivo è qualche cosa di molto diverso dalla istituzione romana e di questo non rileggo perché ne abbiamo parlato abbondantemente ma proprio per questo la opposizione al fascismo di Capitini divenne qualche cosa di religioso fu lì su questa esperienza che l'opposizione al fascismo si fece più profondamente fece più profonda e divenne in me religiosa sia nel senso che cercai più radicale forza per l'opposizione degli spiriti religiosi puri come in Cristo Buddha San Francesco Gandhi di là dell'istituzionalismo tradizionale non vi ho parlato di un altro personaggio sempre di questi anni che fu uno dei dieci professori che non giurò fedeltà al fascismo Pietro Martinetti che morirà dopo un poco e che elaborerà e che elaborò a partire proprio da Kant e dalla concezione dalla critica che Kant ha elaborato nei confronti della religione istituita della religione statutaria un volume intitolato Gesù Cristo il cristianesimo assolutamente rivoluzionario e in linea con alcune delle cose che abbiamo sentito elaborare da Capitini e dunque mi approfondi nella non violenza imparai il valore della non collaborazione anzi lo acquistai pagandolo perché rifiutai l'iscrizione alla partito e persi il posto che avevo questo qui alla scuola normale e quindi poi il lavoro di suscitamento antifascista concluderei ancora la pagina dopo grazie con i punti inaccettabili del fascismo credo che questo dovremmo fotocopiarcelo mettercelo sul nostro capoletto magari può esserci ancora utile inaccettabile è il nazionalismo che esaspera un riferimento nazionale guerriero a tutti i valori proprio quando la guerra indebolisce l'Europa l'imperialismo colonialistico il centralismo assolutistico e burocratico quel far discendere tutto dall'alto per giunta corrotto il totalitarismo con la soppressione di ogni apporto di idee correnti diverse sì che quando parlava i giovanissimi della vecchiaia della vecchia possibilità di scegliere se a vent'anni un partito che aveva sue sede e sua stampa sembrava parlarsi di un sogno il prepotere poliziesco quel gusto da nonziano e quell'esaltazione della violenza quel finto rivoluzionarismo attivista e razionale sopra un sostanziale che nascondeva un sostanziale conservatorismo difesa dei proprietari di ciò che era vecchio e perfino anteriore alla rivoluzione francese quella alleanza con il conservatorismo della chiesa quel corporativismo con un'insostenibile parità tra capitale e lavoro quel rilievo forzato e malsano di un solo tipo di cultura e di educazione una monocultura un pensiero unico quella ostentazione di littoria cioè latina l'onnipotenza di un uomo l'onnipotenza di un leader di cui era facile vedere quotidianamente la grossolanità la mutevolezza l'egotismo l'iniziativa brigantesca la leggerezza nell'affrontare cose serie gli errori la irragionevolezza impersuadibile credo che di questo oggi ancora possiamo fare tesoro applicandolo al presente grazie ora non so come funziona però se volete qualche approfondimento qualche chiarimento ulteriore delle cose che ho detto qualche precisazione rispetto alle cose che ho accennato o che magari ho dato in maniera imprecisa sono qui sono a vostra a vostra disposizione se mai vieni qui guarda vieni qua e qui c'è il microfono vieni Tonino tieni nel primo seminario che si può vedere per chi non lo sapesse su youtube basta digitare sns capitini si trovano questi seminari i primi due già svolti il primo seminario è stato introdotto dal professor Tiziano Raffaelli il quale ha elencato tutta una serie di critiche che quello di di quando del 1900 no no a novembre a ottobre il 19 ottobre dell'anno scorso il primo seminario Tiziano Raffaelli ha introdotto elencando tutte le critiche che Cantimori faceva a Capitini ha ripreso una serie di lettere ha svolto tutta una serie di critiche a Capitini Ciliberto allora forse è stato Michele Ciliberto che ha introdotto appunto il 19 ottobre eh sì sì ho sbagliato siccome stavo nella stessa stanza all'università ho confuso i due allora Michele Ciliberto sì Michele Ciliberto ha elencato questa serie di critiche a Capitini e chiaramente Capitini ne ha suscitate tantissime nella sua vita anche le più sprezzanti però non ha ricordato che Capitini ha una pagina a proposito di religione non violenza che è stata profetica nel 56 certamente sarà stato dopo la rivolta ungherese Capitini scrive la crisi del socialismo una pagina una pagina semplice nella quale però esprime un concetto che credo non abbia espresso nessun altro cioè il socialismo per Capitini è in crisi perché ha perso quella che è la sua ispirazione originaria che era un'ispirazione religiosa Capitini ha il coraggio di dire che il marxismo o il socialismo in generale o mantiene questa sua ispirazione religiosa oppure non può avere un senso storico andando oltre i tempi che già erano arrivati in questo senso forse Cantimori che era diventato marxista avrebbe potuto anche pensare un po' di più alle critiche che faceva Capitini se avesse tenuto conto di questa pagina di Capitini dico questo perché mi sembra anche molto significativa per quello che hai detto sul rapporto tra religione e politica in Capitini che lui poneva questo rapporto non solo a livello personale ma anche a livello di grandi istituzioni come erano le istituzioni socialiste a quel tempo la stessa Urs e quindi la concezione di Capitini non era solo una concezione intimistica anche in politica lui si allargava a uno sguardo generale ora questa cosa mi fa porre una domanda che avevo posto a Pontara Capitini è un filosofo della relazione e in questo senso sviluppa il tema dell'io tutti della compresenza dei vivi e dei morti come tema decisivo per la sua maniera di pensare in quel tempo lì ci sono altri due grandi filosofi della relazione li conosci benissimo c'è scritto libri Buber e Levinas che sono famosissimi mentre invece Capitini in Europa è ignorato ecco come mai questa poca attenzione a Capitini a un filosofo della relazione che ha delle affermazioni molto interessanti molto profonde sul tema della relazione dei rapporti umani Bobbio lo chiama pan personalista cioè un filosofo in cui tutto è relazione tra le persone non credo che questo aggettivo possa essere applicato ad altri filosofi a pari livello e come mai c'è questa poca attenzione è un problema il fatto che Capitini mantiene sempre un discorso di religione di religiosità mentre gli altri invece non hanno interessi per questo aspetto o invece addirittura il problema è che Capitini questo discorso della relazione della congiunzione tra religione e politica lo trasferisce anche a livello politico più ampio Levinas e Buber a mia conoscenza non hanno grandi riflessioni su temi internazionali temi di politica nazionale se non per questioni particolari ecco la domanda che pongo com'è questa poca attenzione a Capitini il momento in cui pure ci sarebbe un interesse molto forte a approfondirlo mentre altri che hanno svolto gli stessi temi vengono considerati molto qual è la cosa che osta che impedisce come è stato fino ad ora sono passati 50 anni a che Capitini venga ripreso almeno sotto questo aspetto come filosofo della relazione non ho una risposta unica e non credo che sia una risposta definitiva possono essere tanti gli elementi che contribuiscono a ciò che ho sottolineato anche io cioè al rischio insomma di considerare di non considerare appunto tutto ciò che possiamo ricavare da Capitini qualche cosa di esterno di esteriore al pensiero di Capitini stesso è un po' un'atmosfera provincialistica che caratterizza il nostro paese per cui noi sempre privilegiamo persone o autori che vengono dal fuori perché l'erba del vicino è sempre migliore insomma ma ma non è neanche per questo forse c'era un elemento c'erano vari elementi nel pensiero di Capitini che potevano favorire il suo fraintendimento da una parte come ho cercato di dire gli elementi dell'esperienza religiosa sono un po' il nucleo fondante del suo pensiero io li ho un po' tradotti diciamo per riproporli nel contesto attuale ma la loro lettura risente ancora molto di di un lessico idealistico o della polemica con il lessico idealistico quindi sono cose che effettivamente un po' oggi pesano poi c'è un altro aspetto che è l'aspetto che io ho considerato in maniera molto positiva ma che può anche essere volto come un difetto vale a dire il fatto che in Capitini diciamo la malamente teorie e prassi cioè riflessione e azione vanno congiunti sono due facce della tessa medaglia non ha senso l'una senza l'altra e viceversa bene in una realtà in cui tu vieni giudicato o come filosofo o come uomo politico e lui non era né carne né pesce non era nessuno dei due a maggior ragione in un mondo in cui la cultura del secondo dopoguerra è profondamente spezzata divisa in due nei due grandi blocchi eccetera una persona che aveva una posizione di questo tipo e cercava di coniugare una religione intesa però in una maniera molto particolare molto personale come ho cercato di vedere che quindi era in visa alla istituzione religiosa abbiamo dovuto aspettare il Vaticano II e i suoi sviluppi per avere un ripensamento radicale della Chiesa Cattolica come istituzione e dall'altra parte invece una prassi che si realizzava e si incarnava in partiti se queste erano le due forme per intendere da una parte la religione e dall'altra parte l'attività politica Capitini era eccentrico ad entrambe e quindi era chiaro che non poteva rientrare in nessuna di queste due categorie e sappiamo bene l'egemonia culturale come veniva sviluppata come veniva gestita eccetera però non ne voglio fare un martire è una scelta certamente questa che lui ha fatto anche di ritrovarsi appunto nell'attore dell'orologio di Perugia perché riteneva di poter diciamo essere più fedele testimone di quello che lui pensava di quello che lui viveva in quel modo lì che invece mettersi a fare il burattino di ideologie più o meno più o meno varie guardate che però in quel periodo ci sono tante persone una la città lo stesso Capitini Danilo Dolci ma poi anche in ambito cristiano Divo Barsotti ma poi continuerei Carlo Carretto Arturo Paoli che è mancato da poco ecco di queste persone in una cultura sempre più polarizzata quale quella in cui viviamo sempre più legata alla velocità alla possibilità di una risposta che sia un netto sì o un netto no un mi piace o un non mi piace capite che figure di questo tipo non ci rientrano e quindi benvenga la scuola normale che ci offre questa occasione di riflessione comune prego professor Feo grazie grazie professor Fabris per questa bel ricordo bella bella esortazione a ricordare e ad amare Capitini grazie per averla fatta la scuola normale che deve molto a Capitini e Capitini avrebbe meritato di essere ricordato ancora di più in questa scuola alcune piccole osservazioni gli elementi di esperienza religiosa furono credo non scritti qui ma nella torre di Perugia perché lui è andato via nel gennaio del 33 quindi forse qui l'ha pensata ma insomma l'ha scritto l'agraggio vorrei anche ricordare che prima di Capitini un'opposizione dura al connubio fra Chiesa e Stato fu praticata qui e fu un episodio molto clamoroso da Vittorio Enzo Alfieri che si oppose con molta durezza sia gentile con la baldanza o scritto tipica del normalista specialmente se matricolo o fagiolo si oppose per scritto insomma a Gentile e a suo maestro Carlini trattandoli proprio come gente che giocava con il pensiero e confondeva le cose poggiando sulla sulla amicizia con Croce che gli aveva lo gratificava già da bambino della sua amicizia e del suo affetto e fu un caso clamoroso perché il povero insomma fu maltrattato fu maltrattato non solo dalla scuola ma ancora di più da Cantimori che è una gloria di questa scuola ma che ha avuto le sue ombre e spesso ombre molto tenebrose e che dire di un'altra cosa volevo dire che molti degli amici alcuni degli amici di Capitini ed è istruttivo questo nella prassi non lo seguivano perché Martinetti per esempio che lei ha giustamente ricordato Martinetti ha detto che se i fascisti andavano a casa sua li prendeva a fucilate mica si scherza la non violenza non arrivava per Martinetti fino a farsele dare dai fascisti e faceva lezione con la pistola sulla cattedra in certi momenti così come un altro amico fraterno di Capitini di cui ora mi sfugge il nome Ghi Ghi insomma ricordo le prime sillabe ma no andò a fare la resistenza ed è morto morto insomma alcuni dicono senza avere fatto violenza altri dicono con le armi in pugno e questo mi porta a riflettere drammaticamente perché è un problema dal quale non si viene fuori della non violenza e di tutte le proposte di Capitini che sono appaiono fuori della realtà e delle possibilità mie e sue cioè un conto è la non violenza quando ci si mette ci si stende in piazza dei cavalieri e si aspetta che venga la polizia a tirarti via un conto un conto è come diceva Pascal se il brigante ti porta via il bambino e tu cosa fai tiri il bambino dalla tua parte e gli fai violenza allora il brigante tira il bambino dall'altra parte e anche lui gli fa violenza tutte e due fanno violenza al bambino ma la madre ha il diritto di non far violenza in quel momento la omnicrazia cosa vuol dire la omnicrazia a malapena riusciamo a capire che cos'è la democrazia che è una cosa così bella ma così impraticabile come si vede ogni giorno sia quella sia quella diretta sia quella delegata ma la omnicrazia vuol dire che 60 milioni di italiani dovrebbero decidere se fare o no il reddito di cittadinanza allora la compresenza dei vivi e dei morti è molto bello però noi laici l'abbiamo trasformato in un'altra cosa più praticabile più modesta forse ma più praticabile ed è la conoscenza storica per cui io vivo con Cicerone vivo con Petrarca leggo i suoi scritti li commento forse lui mi risponde anche a qualche domanda ma non c'è un'ombra di Petrarca che dialoga con me in spirito in spirito allora si ha proprio l'impressione che ci sia qualche cosa di proprio fuori della realtà di utopico a me è sempre passato per la testa che Capitini sia come San Francesco grande ammirevole da amare ma che dice delle cose che non sono praticabili perché non è possibile avere una sola tunica non è possibile non avere una casa come dice Francesco Francesco però è profondamente vero quando attacca la corruzione della Chiesa come Capitini è profondamente vero quando attacca la nostra violenza la nostra mancanza di democrazia i difetti del fascismo è un come dire un esempio col quale noi dobbiamo misurarci ogni volta che siamo in crisi ogni volta che il nostro mondo non funziona ogni volta che la ma nella costruzione della società come è possibile quando lui è ritornato gli hanno dato l'università di Perugia ma o perché era in viso ai comunisti e ai democristiani o perché come dice Luigi Russo era un uomo inconcludente mi dispiace ma Luigi Russo l'ha trattato veramente in maniera ignobile ecco Capitini non riesce a costruire è curioso perché Gandhi invece che è stato un suo maestro un suo punto di riferimento è riuscito almeno nel suo intento di con la sua non violenza è riuscito a costruire una unità nazionale Capitini non è riuscito a costruire alcunché però secondo me non vorrei essere frainteso cioè non sono venuto a fare un attacco a Capitini ma esprimo la mia perplessità e il mio desiderio di recuperarlo il più possibile nella prassi perché mi pare che la sua debolezza stia proprio nel non essere un uomo della prassi cioè nel non essere proprio quello che lei ha cercato di dimostrarci cioè il connubio strettamente forte di pensiero e di azione ma non vorrei sbagliarmi no no grazie grazie in teoria in realtà io non intendevo presentare allora riutilizziamo le vecchie formule ciò che è vivo e ciò che è morto di Aldo Capitini io ho cercato di secondo quella che è la mia intenzione di proporvi in realtà l'elemento più vivo di Capitini proprio in questo pensiero che è un pensiero che non può rimanere astratto separato ma che deve trovare la sua realizzazione nell'azione e questo pensiero che può trovare la sua realizzazione nell'azione non può che essere un pensiero relazionale come appunto veniva anche prima segnalato cioè un pensiero della relazione un pensiero come relazione che si invera cioè si rende vero attraverso le cose che fai quindi nella testimonianza questo non vuol dire che poi deve essere efficace non vuol dire che deve essere che si misura attraverso l'unità di misura dell'efficacia la testimonianza non sempre è efficace nel modo in cui noi intendiamo questa parola a questo termine il fatto che si possa lasciare un segno e incidere nella realtà beh molto spesso incide sulla realtà chi si comporta in maniera violenta molto di più di chi si comporta in maniera non violenta ma questo non credo che sia un argomento contro una posizione non violenta quindi la mia impostazione non era quella diciamo di far vedere un Capitini uomo della pratica mi interessa anche il giusto per il mestiere che faccio cioè l'insegnante di filosofia vedere com'era l'uomo Capitini anche se vi ho fatto riferimento per mostrare come effettivamente l'uomo Capitini dovesse poi impegnarsi a non rendere puramente semplicemente astratta la sua riflessione ma quello ripeto che mi interessava di più farvi vedere è questa idea di un pensiero che doveva prolungarsi nella pratica ora che sia efficace o no questo abbiamo ancora tempo magari per poterlo vedere perché l'efficacia si misura anche in tempi brevi in un'efficacia monetizzabile un'efficacia invece un pochino più pensieri che hanno vita lunga forse magari possono essere efficaci anche più avanti ma lei ha ragione su un aspetto molto importante del suo intervento cioè non violenza onicrazia eccetera come realizzarle effettivamente realizzarle concretamente che cosa vuol dire qui noi e specialmente la riflessione filosofica si scontra con il problema della applicazione ciò che è giusto in teoria diceva Canta non sempre lo è in pratica c'è un principio che purtroppo regola la nostra storia che è il principio della eterogenesi dei fini io agisco penso le cose in un certo modo mi muovo con le migliori intenzioni poi alla fine succede invece il patatrac e questo è un elemento importante da tenere di conto anche nel pensiero di Capitini come nel pensiero di tutti i filosofi perché quello che pensano poi quando i pensieri anche innovativi quando vengono applicati rischiano di essere poi per molti versi dirompenti e contrarie anche nelle conseguenze da quello che erano le intenzioni del pensatore e non per questo il pensatore non è responsabile di queste conseguenze anche non volute ben inteso ma poi soprattutto l'altro aspetto importante che lei sottolinea è quello del fatto che in certe situazioni non possono immediatamente essere applicati questi principi il caso che lei faceva del brigante del suo esercizio di violenza però su questo lei ha citato anche la via d'uscita che è quella di San Francesco San Francesco è il lupo uno dei più notti fioretti episodi dei fioretti certo perché può funzionare che il lupo poi alla fine non mangi i greggi e quindi affami i pastori beh perché a un certo momento qualche cosa si raggiunge un accordo si raggiunge una mediazione i pastori qualche cosa danno da mangiare al lupo e non certo insalata perché il lupo farsi vegetariano insomma è un po' difficile e per questo lei ha ragione è necessaria la buona volontà del lupo non si può dialogare con chi non vuole dialogare non si può dialogare con il fondamentalista che è sordo però d'altra parte d'altra parte c'è quest'altro elemento che bisogna tenere di conto se non c'è nessuno che dice al lupo guarda c'è un'altra possibilità guarda che c'è un altro scenario possibile in cui possiamo essere tutti più in relazione migliore più proficua e più adeguata insomma te lupo prima o poi ti beccano i pastori e ti fanno la pelle ecco se non c'è nessuno che dice questo forse allora alla fine può finire sempre soltanto male e credo che questo Capitini lo abbia fatto ha detto se non altro questa parola magari non efficace magari deve avere richiede qualcuno che ascolti per davvero ma in ogni caso il suo apporto è stato utile prego buonasera mi scuso perché non ho le competenze filosofiche del caso però ero venuta a sentire la lezione del professore sono molto interessata a queste figure poco appunto così di confine poco organiche alla struttura del potere allora molto sollecitata dall'intervento del signore mi viene in mente che prassi e pragmatismo sono vicine ma non sono assolutamente sinonimi allora la prassi ha anche a che vedere con l'idea che tu fai quello che dici e provi a incarnare una parola e se questo poi dal punto di vista pragmatico i risultati ha bisogno di due decenni per vederli e beh è un seme che apre fa fiorire una cosa lontano da lì perché le idee stanno insieme non direttamente non vuol dire che non sia efficace perché anche capire cosa efficace è è una cioè se è solo il risultato immediato i risultati sono le cose che fanno modificare e chi ha un pensiero così radicale come quello l'omnicrazia diceva Oscar Wilde che il paese che il mondo in cui non c'è la mappa del paese del sogno non è insomma una cartina geografica degna di essere di essere fatta e credo che questo utopismo dell'orizzonte cognitivo ed emotivo non vada perso indipendentemente dal fatto che poi obiettivamente la negoziazione quotidiana è dura e lo sappiamo tutti però le cose io non le vedrei così così antitetiche e quanto alla possibilità dell'esperienza di sentirsi appartenenti a una comunità in cui Petrarca Cicerone tanti sono veramente tanti i nostri grandi morti del passato e del presente questo ci sono modi diversi e non è che uno è più è un altro è meno secondo me ognuno ha il suo ha il suo modo ecco grazie grazie Laila sì riguardo all'omnicrazia Capitini non pensava che ci fosse un Parlamento di 60 milioni di deputati o senatori ma pensava che ci sarebbero state delle assemblee di quartiere che avrebbero elaborato idee che poi sarebbero andate ad assemblee a livello comunale e così via e lui le realizzò queste assemblee ci fu per un periodo a Perugia forse i dettagli non li so dire ma lui riusciva a riunire queste persone che parlavano dei problemi vicini a loro ed elaboravano idee che potevano arrivare poi ai decisori politici e questa esperienza finì perché la gente cominciò ad avere il televisore in casa e ad avere una ragione per rimanere in casa e non uscire la sera dopo il lavoro e questa è una cosa da riflettere come il potere ha molti mezzi per mettere a tacere le persone non solo le armi anche la televisione non è un'arma però è uno strumento diciamo non violento che è riuscito a mettere a tacere questa idea di Capitini e poi lì sulla storia del brigante che rapisce il bambino è un'obiezione che viene fatta alla non violenza ma non violenza non significa io non userò mai le armi e quindi sono pronto a farmi rapire il figlio o a farmi uccidere non violenza significa essere molto pragmatici io un'arma nucleare non ce l'avrò mai e allora devo usare le armi che sono a mia disposizione che sono per esempio la mia creatività l'avere l'idea giusta che possa e non violenza appunto non significa remissione si parla di forza della non violenza cioè il cattivo quello che mi aggredisce che usurpa i miei diritti deve essere messo a tacere gli devo impedire di di continuare a farmi del male e posso condurlo alla ragione ma forse nel caso lui sia irragionevole dovrò usare la forza senza fargli del male però impedendogli di danneggiarmi e ovviamente ci vuole creatività però è più facile essere creativi che non per esempio entrare in possesso di armi che non che non ho i mezzi materiali per procurarmi magari raccogliamo ancora qualche intervento se c'è così poi rispondo a tutti quanti tanto grazie per l'esposizione volevo chiedere lei ha parlato dell'influenza in un certo senso di Heidegger conosciamo i testi sull'esperienza religiosa quindi anche una certa fenomenologia presente nel pensiero di Capitini la mia domanda è quant'era consapevole Capitini di starsi inserendo all'interno di un dibattito fondamentalmente teologico-politico mi sembra di capire cioè lo stesso paradosso del quale parlavamo cioè quello di non riuscire a concepire la praticità di un atteggiamento così utopistico come la non violenza e del contatto diretto con la trascendenza mi sembra un argomento proprio teologico-politico in un certo senso insomma ha degli autori di riferimento che sarebbero interessanti da mettere in parallelo rispetto a queste tematiche sì vediamo se ci sono e poi rispondo ancora Tonino posso senza togliere la parola a nessuno sembra di no a proposito dell'intervento del signore che non ho il piacere di conoscere che indicava tematiche molto esatte molto precise certo Capitini può sembrare un grande utopico però bisogna inserirlo in una serie di date secondo me prima data la marcia del sale di Gandhi mondiale in cui la non violenza fa vedere che con la disobbedienza civile può muovere un governo come l'impero britannico nella colonia nella colonia che era la più grande dell'impero britannico è il 10% dell'umanità perché allora erano 300 milioni gli indiani e 3 miliardi gli abitanti della terra questo è il primo episodio secondo episodio è il 68 in cui Capitini entra in maniera molto forte con un giornale il potere di tutti e però proprio in un momento cruciale muore metto tra parentesi perché muore ma di fatto lui aveva una grande potenzialità in pratica del 68 lui era la persona più autorevole in senso morale sicuramente ma non vuole partecipare ai moti degli studenti certo ai moti di certo tipo no però lui aveva mandato Rocco Pompeo che sta a Livorno in tutta Italia a cercare di unire gli studenti non violenti per fare un gruppo non violento nazionale degli studenti quindi c'è un bel programma preciso altro episodio è l'89 in cui i popoli dell'est in nome della non violenza che è la parola che usano espressamente si liberano dalle dittature del proletariato cosiddetto del proletariato e ci liberano tutti dalla divisione di alta risultato politico più grande di questo non poterò esserci in nome della non violenza Capitini che rappresenta in questa sequenza Capitini rappresenta il primo che in Europa incomincia a parlare di non violenza non di Gandhi perché Romero Rolland ci ha scritto dei libri ma di non violenza cioè se l'assume e se ne fa un motivo di vita in questo senso è l'alba della non violenza in Europa non si può pretenere da Capitini un sistema completo anche se lui ha vissuto alcuni decenni e poteva elaborare ma più che una concettualizzazione Capitini non poteva avere e quindi in questo senso i suoi concetti per di più messi in termini poetici molto spesso perché non bisogna dimenticare che Capitini è essenzialmente un poeta messi in termini poetici non sono fruibili immediatamente in termini filosofici e all'interno di un sistema completo e conchiuso e in effetti appunto per questo mi sono concentrato sugli elementi perché gli elementi di un'esperienza religiosa sono il testo teorico fondamentale quindi io le do pienamente ragione perché la prima impressione che dà Capitini è questa uno pretenderebbe che fosse una persona completa che avesse raggiunto i suoi obiettivi non li ha potuti raggiungere perché cioè ha troppo soprattutto poi con la critica io mi immagino non ho elementi precisi documentari per sostenerlo però la critica che immediatamente gli avrebbero fatto se lui avesse poco poco ripetuto qualche concetto orientale a quei tempi tutto ciò che era orientale per carità lo stesso Marco Palanella è un altro normalista peraltro altro allievo di Armando Carlini peraltro ha fatto questa scelta e dovuto andare in Francia è successivo l'ansia del vasto in questo senso ha potuto elaborare di più ma l'orientalismo lo stesso Pannella diceva io mi ricordo con precisione fino al 70 noi siamo non violenti ma non abbiamo nulla di orientale e si divideva da Gandhi poi ha messo Gandhi sulla bandiera ma quella è stata una bella mossa ma lui dall'inizio non voleva queste cose comunque ecco forse se possiamo ah prego una risposta di unire una parola sulla persuasione eh già ma allora forse beh anzitutto devo una risposta precisa a lei che eh mi chiede ehm se c'è una consapevolezza del eh contesto teologico politico delle problematiche del dibattito teologico politico delle tematiche teologico politiche che eh stanno sullo sfondo di questi discorsi la mia risposta è no mh nel senso che eh Schmidt Petra sono tutte cose che sono al di fuori eh dall'orizzonte eh di Capitini eh c'è però forse ehm la cosa stessa e un certo modo forse anche di intendere la cosa stessa cioè l'influenza di una determinata concezione religiosa istituzionalizzata per quanto riguarda una determinata idea del potere questa cosa stessa in Capitini c'è ed è ben presente eh legata proprio ehm credo all'unico eh collegamento eh che in quel periodo eh mi sembra oltre a Gandhi oltre a eh ma che mi sembra filosoficamente eh documentabile che è quello di Heidegger via Carlini eh e via eh anche Baglietto eh perché dimenticavo poi di dirvi che la tesi di Baglietto eh su Heidegger appunto e su Essere e Tempo fu poi pubblicata da Carlini negli anni 50 sugli annali della scuola normale superiore quindi eh come diciamo eh riconoscimento posto modo di modo di onorare eh questo suo allievo che eh soprattutto collegato a Capitini aveva fatto una scelta radicale fino in fondo quindi mh perché Heidegger di mezzo perché eh Heidegger è colui che eh intende ponendo la finitezza al centro compie al centro della riflessione filosofica compie una eh trattazione implica una trattazione della della istituzione dello Stato come dipendente dalla decisione del soggetto finito cioè di quello che lui chiama Dasein eh questo è il punto nel 33 Heidegger eh quindi siamo sempre in questi anni eh tiene in questo scorso di anni tiene la sua prolusione sulla per il dottorato eh a Freiburg di inaugurazione del suo mandato di rettore intitolata l'autoaffermazione dell'università tedesca e un suo allievo ebreo eh che poi cercherà di avere aiuto da lui nel 36 incrociandolo a Roma all'esiduo dei studi germanici eh senza ottenere aiuto Karl Levit commenta nelle sue memorie in cui racconta tutto questo eh quando siamo usciti dalla eh aver ascoltato la prolusione di Heidegger non sapevamo se andare a studiare i pressocratici o andare a iscriverci alle S.S. alle S.A. all'epoca eh cosa vuol dire questo? vuol dire eh appendere ad una decisione sostanzialmente arbitraria anche la istituzione e la costituzione di una comunità e ancora di più di una comunità istituita questo è forse il modo in cui eh emerge una certa idea di Stato e un certo modo di plasmare a partire dalla decisione della fede una certa istituzione secolarizzata ma mh mh per cercare un po' di collegare insieme le varie eh i vari interventi eh che si ricollegano tutti al tema della non violenza e ai modi in cui Capitini la poteva proporre ai modi in cui poi è stata interpretata eh anche questo tema della persuasione che è un tema eh tratto da Michele Stetter che poi ehm veniva eh in quell'epoca riproposto e rilanciato io credo che il modo migliore per tenere assieme tutti questi punti sia a fare riferimento alla categoria eh presente in Capitini di testimonianza eh chi è il testimone eh testes testis è colui che attesta eh qualcosa l'esistenza la presenza di qualche cosa che non è più presente che era presente quando lui stesso vi aveva assistito quando lui stesso ne aveva fatto esperienza ma quando ne deve parlare ad altri non è più presente né mai lo sarà più e quindi questa attestazione diventa l'unica strada l'unico veicolo l'unico elemento di mediazione che permette eh alle persone eh di attingere a quanto alla verità di quanto il testimone dice è una verità che è mediata appunto dalla presenza del testimone e questa mediazione si chiama fiducia affidamento affidabilità ebbene è giusto tutto quello che voi avete detto e a questo aspetto di pratica di necessità pratica eccetera forse vi ho forviato io segnalando appunto il fatto che che la teoria che la riflessione teorica in Capitini debordava doveva per forza aprirsi in qualche cosa che è al di là realizzarsi in qualche cosa di altro forse una citazione religiosa di Capitini sempre presente negli elementi a pagina 43 può forse essere appunto un'indicazione per spiegarci meglio in che cosa consiste questo legame tra teoria e prassi nella forma appunto della testimonianza nella forma della non violenza nella forma di una redenzione che è sempre al di là di quello che noi possiamo fare questo è il punto qualche cosa che è sempre al di là di ciò che noi possiamo fare di cui possiamo vedere gli effetti che possiamo verificare il termine di redenzione non è mio è dello stesso Capitini che in un punto cruciale degli elementi appunto vi dicevo pagina 43 legge la vicenda di Gesù di Nazareth narrata dai Vangeli e dice che Gesù Capitini dice che Gesù ha redento realmente perché perché quello che diceva lo viveva ne era persuaso infinitamente lo sentiva come una realtà ecco la persuasione ecco il vivere lo sentiva come una realtà e attuava perciò quella realtà Gesù con l'atto suo intimo con la sua persuasione ha realizzato perciò la liberazione di tutti perché lo spirito è uno e quello che fa uno vale per tutti è attuazione allora mi rendo conto tutto l'elemento datato a cui ho alluso anche io prima questa area un po' idealistica anche se non si parla di atto di atto puro di attualismo ma si parla di attuazione però l'aria è questa soprattutto nell'idea che ciò che viene fatto e realizzato non dipende da me nel controllo della sua realizzazione ma questa è comunque l'idea di Capitini ed è un'idea che si ricollega a qualche cosa che anche noi oggi possiamo effettivamente sperimentare l'idea dell'essere umano come testimone cioè come colui che può attestare quella che è la persuasione la convinzione dei propri principi anche senza sapere e senza poter controllare davvero e fino in fondo tutte le conseguenze delle proprie azioni e dunque l'unico modo per essere per ciascun ente finito quello che è e fare riferimento ad una totalità ad una universalità che è esattamente ciò che fa Capitini grazie davvero per l'attenzione di questo pomeriggio e niente rileggiamoci tutti a religione aperta grazie a tutti grazie grazie